calzini un cane trovato un paio d'anni fa in giro quindi è sicuramente un abbandono era magrissimo e con una dermatite fortissima calzini è positivo alla lesmania con un titolo bassissimo e in cura le cure invece più lunghe più costose sono quelle per la dermatite perché ora purtroppo le nostre possibilità non sono tantissime un adozione sarebbe un miracolo calzini è un cane buonissimo ora si lancerà a terra per le coccole eccolo qua adora tenere la zampa calzini adora tenere la zampa se ci fosse qualcuno interessato all'adozione può contattarci se ci fosse qualcuno interessato ad uno stallo calzini si trova in provincia di caserta